Intorno alla metà degli anni 70, nella quasi clandestinità, apparvero le prime emittenti locali, molte delle quali ha forte caratteristica politica, le quali con questa nuova attività intendevano rispondere ad una logica. Saranno capaci una miriade di emittenti locali, una per ciascun comune italiano, di riuscire a condizionare il cosiddetto servizio pubblico che in effetti è al servizio dei partiti, dei gruppi di conservazione, agli ordini di Washington, perché esistono dei protocolli segreti a tutt'oggi, firmati in tempi lontani, che impegnano, si deduce, il nostro paese nell'informazione nazionale ad essere sempre benevolo con l'impero americano. Vede chiamata la Corte Costituzionale per decidere circa la legittimità o meno delle emittenti locali. Essa rispose che finalmente l'articolo 21 della Costituzione, che consente a tutti i cittadini di esprimersi, era soddisfatto e che l'emittenza locale rappresentava un utile contrappeso informativo, purché rispondesse a piccole distanze. Cioè si sottolineava che l'emittenza doveva essere esclusivamente locale, definita a corto raggio. Sappiamo poi come sono finite le cose, scesero in campo le grosse finanziarie dell'Ettere, protette dai partiti che fecero carte false dopo una lunga battaglia per legittimarle e farle trasmettere sull'intero territorio nazionale, mentre le emittenti locali vennero spinti nell'angolo più buio, poco per volta, fino a ridurle ai nostri giorni, ad essere costrette a vendere le preziose frequenze di trasmissione alle reti nazionali. C'è però un commissario dell'Agicom, che più volte abbiamo criticato, non il commissario ma l'Agicom, che si chiama Antonio Nicita, è un professore, il quale è perfettamente al corrente di come si sono svolte le cose e ha accettato recentemente di ricevere e di discutere con un'associazione di categoria di piccoli emittenti locali, mostrandosi ben disposto ad un rilancio dell'emittenza locale, magari istituzionalizzandola, dando i compiti che sono propri l'autonomia che in caso di calamità naturali o procurate vedano la radio a correre in soccorso informativo dalla popolazione colpita. Aspettiamo, nonostante i nagi conspiri un'aria non troppo pulita, a totale favore delle compagnie telefoniche, aspettiamo notizie dal professor Nicita per procedere sul rilancio dell'emittenza locale radiofonica. Al prossimo episodio